Sono Florina Ferrara, lavoro in IBM e sono una master inventor. Guido una squadra chiamata Squad, un team di innovatori di una nuova struttura dell'IBM Italia che crea innovazione sul cognitivo e quindi sull'intelligenza artificiale per i nostri clienti sia nel settore privato che sia nel settore pubblico. Sono qui a questo evento a Bit of History, bellissimo evento a Torino dove abbiamo avuto un panel sulla donne e la tecnologia dove ho presentato e portato la mia testimonianza di donna che lavora in una grande azienda informatica ma anche di un progetto che ho particolarmente a cuore il progetto NERD, non è roba per donne. È un progetto creato in collaborazione con la professoressa Velardi della Sapienza e poi divulgato e portato in altre università informatiche, dell'anno prossimo ci sarà anche a Torino, dove abbiamo portato 4.500 ragazze nei laboratori di informatica, ragazze di 15-16 anni nel creare il loro primo programmino e quest'anno la loro prima chatbot. Quindi abbiamo insegnato alle ragazze a distruire un'intelligenza artificiale e abbiamo insegnato alle ragazze a scoprire che cos'è il mondo cognitivo e che in realtà i robot non fanno così paura. Abbiamo avuto anche un hackathon con delle ragazze torinesi quindi anche le ragazze di 15-16 anni hanno creato la loro prima chatbot, finalmente hanno capito che cos'è l'intelligenza artificiale e soprattutto che i robot non fanno paura. Le chatbot più belle hanno vinto un premio tre giorni con noi in IBM e la cosa che hanno dimostrato queste ragazze qui durante questo evento, durante questo hackathon che assolutamente l'informatica è anche roba per donne. Grazie a tutti.